L'attentato al Papa Collegato con il terzo segreto della Madonna di Fatima In nome di Dio Onnipotente io annuncio la fine del mondo Io sono Gesù Cristo reincarnato In questa generazione tutto il mondo sarà distrutto Ci sono anni contati della civiltà umana Tutti potete definirmi passo questi mesi di informazione Ma meditate, pensate Il Papa è venuto fino alla mia cella Ho parlato con il Papa Al Papa ho detto questo Santità, io ho parlato con Dio invisibile Dio mi ha fatto vedere in visione la crocifissione La risurrezione L'ascensione Papa mi ha detto quando Non mi ha detto tu sei passo Mi ha detto quando Dica, dica quando Quando Papa è uscito fuori Ha definito questo colloquio Eccellente Meraviglioso Il Vaticano Il cervello della civiltà umana Avomini brillanti Più intelligenti di tutti voi E se io se ne passo Perché questo colloquio è stato eccellente Meraviglioso No Io dico la verità assoluta Io ho visto Io ho visto in visione Tutto Ho visto tutto Questo Il mondo Ha anni contati In questa generazione Tutto il mondo sarà distrutto Né sovietici Né americani Nessuno potrà evitare nulla Io invito ancora il Vaticano A rivelare il terzo segreto Della Madonna di Fatima Tutto Sono molto riconoscente a tutti voi Per questo permesso Io sono estremamente riconoscente Alla democrazia italiana Ho comunicato un messaggio divino Di Dio eterno Onnipotente Tutto Grazie